un giorno lo padre potente che era citato nel paradiso a fare tante cose ma io mi sono come se non avessi fatto niente fici lo soli mi pare che è buono può fici la luna la terra lo mare che sui casi fanno tagliare però mi pare che a me già sto bene mi manca qualche cosa non sesso chi è possibile che queste grandi cose non restare proprio così che avevo lì su un cosa apposto onesto che sfruttare queste cose appunto giusto ma a cosa faccio a cosa faccio l'armale l'armale fici tutti fino a lupo tale che faccio va modello un pupo e siccome non è chiunente fantasia ho fatto tutto che assomiglia a mia si mise a lavorare e tempo niente fici un pupiglio veramente a posto a voglia che era fatto con la crita ci siano capo eccetera la vita dopo ci dissi e a te come ti chiamo siccome si è fatto con la crita è imbassato con il fango dei pagini a così senza nomi pare un cardone tale ti piace se ti chiamo adamo poi ci dissi adamo si pagini di tutto che giocavi di cantono di l'omare di l'omorno fino alla foglia del frummi indoni ti può mangiare che giochi ti piace pira per cochi meno nel murgisi mentre galeata sbergi cotugneggia però a due pomola lasciare in pagina si disse che ti disse stiamo attendo che se non la tua vita cambia un momento cambia un momento Grazie.